Nel collegamento di oggi parleremo di Fondazione Milano Policroma con il presidente Riccardo Tammaro, che è anche presidente emerito, giusto? Sì, esatto, presidente emerito. Ok, allora, ci parli un po' della sua fondazione, della storia e di quello che fa per la città. La nostra fondazione Milano Policroma è nata nel 1982 dall'idea di un ragazzo di 24 anni, eravamo tutti coetanei, si chiamava Roberto Bagnera, che è uno scrittore anche lui, di fare un'associazione che avesse per scopo far conoscere Milano e i milanesi, in particolare quella parte meno conosciuta che si trova nelle periferie, e comunque sia negli angoli un po' più nascosti. E da allora abbiamo sviluppato effettivamente questo tema con tante iniziative di vario tipo. La caratteristica comune è stata sempre di occuparci di temi poco noti all'epoca, ad esempio un grande lavoro sul Liberty di Milano, un grande lavoro sulle cascine di Milano, che all'epoca erano considerate dei ruderi da abbattere, che invece dopo circa 30 anni sono finalmente state considerate come delle risorse, oppure anche delle altre attività sulla valorizzazione dei borghi, in particolare di quelli che ci ricordano ancora il tempo in cui la socialità era un'abitudine, piuttosto che un'eccezione. Durante questi 40 anni e più della nostra associazione abbiamo organizzato conferenze, e abbiamo organizzato anche convegni, abbiamo fatto anche dei libri, parecchi libri, articoli, abbiamo lavorato moltissimo con la stampa locale, sono 40 anni che lavoriamo con vari periodici che a volte si chiamavano di zona, e abbiamo lavorato anche tra gli altri con la Martinella di Milano. Dopodiché abbiamo fatto anche, nell'ultimo periodo in particolare, una serie di iniziative di spettacolo per portare la musica nelle zone di Milano dove solitamente la musica non ci va, l'abbiamo portata nelle corti delle cascine, nei parchi, l'abbiamo portata nelle corti delle case popolari, quindi abbiamo portato la musica grazie al Cravecembro Verde che collabora con noi da 15 anni, anche in luoghi dove solitamente non aveva dimora abituale. E oltre a questo continuiamo a impegnarci con le istituzioni e dal 1991 che lavoriamo con le varie istituzioni locali o centrali per cercare di collaborare istituzionalmente al miglioramento della vivibilità e della conoscenza delle bellezze di Milano. Quindi moltissime iniziative, moltissime realizzazioni, ce ne vuole parlarne e descrivere qualcuna? Innanzitutto, visto che ho parlato della musica, parto da queste che sono quelle che stiamo facendo anche adesso, i concerti in periferia che adesso si chiamano Borghi e Quartieri in Concerto da 15 anni e sono ancora in corso attualmente nei mesi di maggio e giugno e le informazioni si trovano sul sito milanopolichroma.it, sono una serie di concerti, tutti a ingresso gratuito, in vari luoghi della periferia milanese e l'altra serie di concerti che abbiamo inaugurato l'anno scorso, nel 2022, musica per la pace, concerti che ricordano i momenti, diciamo così, delle giornate tipiche che ci hanno contraddistinto nel passato e per cercare di superare queste difficoltà, giornate che con gli ultimi avvenimenti sono diventate terribilmente anche correnti. Oltre a queste abbiamo fatto, come dicevo, numerosissimi libri, collaboriamo molto con il sistema bibliotecario milanese con cui presentiamo i libri e fatteniamo conferenze, un po' con tutte le biblioteche di Milano e altre iniziative che sono abbastanza caratteristiche sono appunto le mostre fotografiche, perché oltre ai libri l'altro modo per far conoscere la città è tramite le immagini e niente meglio parla di un'immagine e abbiamo fatto molte mostre fotografiche dedicate appunto alle cascine oppure ai borghi oppure alle acque e in particolare abbiamo fatto una mostra onnicomprensiva che avevamo chiamato l'ABC di Milano Acque, Borghi e Cascine. Veramente molto bello e volevo anche chiederle ma in che modo collaborate con le istituzioni? Qual è l'utilità di parlare con le istituzioni e in che modo vi aiutano per le vostre realizzazioni? A noi piace avere una sorta di partnership con chiunque abbia a cuore la città di Milano. Lavoriamo con tantissime associazioni di qualsiasi colore politico, religioso, eccetera, perché non abbiamo nessun limite, nessuna contrarietà verso alcuno e lo stesso facciamo con le istituzioni, quindi non con i partiti ma con le istituzioni. Quando troviamo appoggio volentieri collaboriamo, abbiamo lavorato con i municipi, stiamo lavorandoci ancora, abbiamo lavorato con i consigli di zona, con il comune, con la provincia, perché comunque sia quello che ci interessa è far presenti le necessità della città a chi le guida e tra le altre cose valorizzare quello che c'è nella città che potrebbe essere di giovamento per i cittadini se solo fosse più conosciuto. Cito a titolo di esempio le bellezze architettoniche che ci sono nella periferia di Milano, mentre la narrazione comune dice che in periferia c'è solo degrado. Però certo, chiaramente, se il comune, per fare un esempio, non fa conoscere le cose che ci sono belle nelle nostre periferie diventa poi difficile che poi cambi la narrazione. Quindi dialoghiamo con il comune ad esempio oppure con i municipi per organizzare anche degli eventi. Abbiamo fatto su tempo anche delle visite guidate, abbiamo fatto sicuramente delle conferenze, dei convegni dove hanno partecipato anche di assessori. Ok, in conclusione parliamo un po' del suo ruolo attualmente all'interno della fondazione. Lei cosa fa? Di cosa si occupa? Ma dunque, il titolo di presidente emerito doveva essere teoricamente quello di una sorta di guida, di consulente. Nella realtà ci sono tantissime cose da fare nella città e siccome il mio fisico e la mia salute mi sostengono ancora, in realtà ho anche un ruolo operativo, perché come dicevo prima, delle conferenze, presentazioni di libri la maggior parte le tengo io personalmente e poi naturalmente avendo fatto per più di 30 anni il capo progetto cerco di organizzare le informazioni e le attività in modo che poi chi le porta avanti si trovi un lavoro un pochino più facilitato. Però sicuramente non faccio tutto io, lavoro con tanti soci che sono anche personaggi di un certo livello come Angelo Mantovani, presidente del Clavicembre La Verde come Roberto Visigalli, fotografo e scrittore e così via. Cioè ho tanti ottimi collaboratori che mi danno una mano nell'organizzare le iniziative oltre a quelli che scrivono libri come Gabriele Pagani che da 30 anni scrive libri. Insomma è una squadra molto ben assortita, molto attiva e chi non riesce a fare qualche cosa da un punto di vista diciamo così operativo sostiene molto le attività con commenti e con il supporto insomma che fa andare avanti l'entusiasmo perché queste realtà di volontariato si reggono principalmente sull'entusiasmo e sullo slancio e senza quello diventa tutto molto più difficile. Ok allora ringraziamo molto Riccardo Tammaro della Fondazione Milano Policroma e concludiamo qui la puntata. Grazie. Grazie a lei.